benvenuto grazie di essere qui se hai cliccato sul video in base al titolo del video di oggi io credo tu sia nel posto giusto e ti consiglio di rimanere perché il video di oggi potrebbe contenere informazioni che ti daranno veramente il modo di amare veramente te stesso ti aiuterà nel rapporto con gli altri nel rapporto con te stesso e nel rapporto con chiunque tu hai una relazione quindi prenditi una tazza di tè fai un bel respiro apri il cuore e iniziamo a fare i primi passi verso l'amore per noi stessi allora elencherò i passi che io ho intrapreso nel mio cammino interiore questi passi che mi hanno portato all'amore verso me stessa mi hanno dato tanta pace tanta tranquillità mi ha cambiato la visione e mi ha fatto diventare proprio in pace col mondo essere in pace col mondo un grado di accettazione maggiore rispetto a prima quindi accetto con tranquillità con tranquillità tutto ciò che viene come amare se stessi che cos'è l'amore di se stessi cosa devo fare ma devo fare qualcosa ma questa cosa dell'amore di sé ma io mamma allora queste sono le domande e le affermazioni che mi vengono dette quando si parla del ama per prima te stesso per poter essere amato dagli altri è fondamentale sapere alcune cose quindi ciò che che oggi condividerò con te sono piccoli passi che io ho intrapreso nel mio cammino quindi sono cose che ho sperimentato sulla mia pelle sono state dimostrate non sono cose rubate dai libri oppure sono cose vissute e condivido con te perché spero ti aiuteranno a trovare la stessa pace interiore allora imparare ad amare se stessi e uso il verbio imparare perché imparare implica ripetizione lo dovrai fare sempre più spesso e ripetere ripetendo inizierai a convincere lo subconscio e a sciogliere alcuni schemi interiori che ti impediscono di arrivare a questo punto di poter amare te stesso quindi elencherò cinque passi fondamentali per iniziare ad amare te stesso e quindi il primo è imparare a prendersi tempo per sé sono cose che ho già elencato spesso nei video precedenti dove consiglio gli altri di prendere tempo per se stessi è un atto d'amore è un atto d'amore verso di sé perché si passa dalla dimensione del fare 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 lavorare fare sempre alla dimensione del essere perché quando prendi tempo per te stesso sei veramente dentro a ciò che fai quando prendi quel tempo per te stesso quindi il fare diventa un essere perché lo fai in maniera presente perché ti piace ti prende tutta l'attenzione tutta la concentrazione magari sei uno che ti piace cantare ti piace suonare il piano la chitarra ti piace camminare non hai mai tempo quindi staccando tutto e decidere di prendere tempo per te è un grande atto d'amore verso te stessa perché vorriamo spesso accontentare gli altri e dimentichiamo di nutrire l'anima con ciò che l'anima vuole perché solo l'anima ti fa cantare il cuore di gioia quando fai qualcosa per te quella è l'anima che lo chiede quindi inizia a prendere tempo per te vai a fare una camminata vai a mangiare un dolce vai a cantare una canzone canta la casa vai in natura vai a nuotare se ti piace vai a fare qualcosa solo per te un tempo dedicato solo a te ti piace meditare ah meravigliosa allora parliamo la mia lingua un po di spazio per te cinque minuti al giorno quando non sei disturbato da nessun tipo di device telefono computer email niente solo te con te stesso allora questo è un grande atto d'amore ok il secondo che io ho iniziato a mettere in pratica e mi ha dato tanta libertà non hai idea e imparare a dire il no di qualità il no di qualità arriva nel momento in cui decidi di spostare l'attenzione dal fare sempre cose per gli altri dentro di te spostando l'attenzione dentro di te allora riesci a capire che c'è qualcosa lì che inizia ad infastidirti ogni tanto perché spesso gli amici chiedono favori oppure che ne so anch'io sono stata molto croce rossina nella gran parte della mia vita finché ho imparato a spostare l'attenzione dall'esterno all'interno attenzione senza togliere nulla agli altri e senza sentirmi in colpa per aver detto di no il no di qualità non implica togliere qualcosa all'altro o non significa che tu vuoi meno bene all'altro questi sono delle dei schemi mentali che andranno disolti perché hanno origine nel subconscio quindi non ne sei consapevole tutto ciò che tiene del subconscio significa che non ne sei consapevole di questi schemi ok quindi il no di qualità è molto imparentato con il imparare a prendere tempo per se stessi perché quando impari a dire di no ti butti su te stesso e quel tempo che avresti dovuto dedicato a una richiesta o a un favore che avresti dovuto fare a un amico lo dedichi in maniera elegante e in maniera altruista a te stesso e anche qui ripeto senza togliere nulla all'altro potrei fare un elenco su queste cose delle mie esperienze ma nel momento in cui ho iniziato a dire di no paradossalmente sono rimasta sola e quindi le mie amicizie sono diventate veramente stra 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 poche perché l'universo ha fatto una ripulizia di ciò che non era autentico nella mia vita di ciò che non mi faceva più crescere e quindi molti dei miei rapporti si sono dissolti ben venga nel momento in cui si dice un no di qualità non implica i sensi di colpa il no di qualità non implica nessun senso di colpa cioè spesso le persone dicono di sì sempre sono sì che partono da un senso di obbligo quindi dove c'è un obbligo lì l'origine è la paura hai paura di dire di no perché l'amico potrebbe considerarti maleducato arrogante o potrebbe addirittura non considerarti più un amico è successo è successo 30 volte ho detto di sì una volta ho detto di no ciao arrivederci quindi quando dall'altra parte il tuo no viene interpretato in maniera egoistica questa non è più la tua realtà e qui faccio una piccola parentesi le cose succedono come tu reagisci fa la differenza quindi se tu hai detto un no di qualità e il tuo amico ha reagito male questa non è più la tua realtà ma è la sua quindi la tua realtà è dentro di te tu hai detto un no di qualità dicendo semplicemente guarda non me la sento oppure non mi sento di farti questo favore ho deciso di dedicarmi un po più di tempo a me quindi ciò che tu dici sono cose autentiche vere hai avuto il coraggio di dire ciò che senti in quel momento e se dall'altra parte è stato interpretato in un'altra maniera qui non è più la tua realtà è la realtà dell'altro e qui probabilmente il rapporto si scioglierà oppure no ma imparare a dire un no di qualità che parte da qui ciò che è qui viene espresso qui di conseguenza quando questi punti energetici che vengono chiamati chakra ho fatto un video intero sull'elenco dei chakra su come ripristinarli che colore hanno che organi e che ghiandole risuonano con questi punti energetici e sul mio canale youtube flori niculescu con y se hai domande se vorrai avere una consulenza sui centri chakra un detto su un ripristino dell'aura eccetera eccetera potrò aiutarti potrò regalarti una consulenza del genere contattami in privato e più che volentieri per ora queste consulenze vengono regalate cioè gratuitamente e quindi se vuoi approfondire scrivimi su facebook in privato e io sarò più che felice di regalarti un po del mio tempo quindi quando per essere capita un pochino meglio quando ciò che hai nel cuore non viene espresso in maniera pulita perché è coperto dalla paura del giudizio dalla paura dell'abbandono hai paura di dire ciò che senti perché hai paura di rimanere solo hai paura che gli amici non ti accettino per quello che sei hai paura che la tua donna potrebbe mai lasciarti hai paura di esprimere ciò che senti alla base di tutto ciò che non viene espresso in maniera autentica è la paura quindi una vibrazione molto bassa ti chiude quindi quando questi centri sono stagnanti sono bloccati non sono ripuliti la verità non fuirà ciò che tu sentirai da dire non lo dirai ti sentirai bloccato per via di queste paure ok quindi il no di qualità è meraviglioso se questo no di qualità toglierà alcune amicizie ben venga l'universo ripulirà molto nel tuo cammino e come gesù diceva fare spazio nel nella botte vecchia non puoi mettere il vino nuovo quindi il vecchio deve andare così arriveranno a te relazioni belle fresche sane che ti aiuteranno nella tua crescita perché probabilmente quelle relazioni non ti davano più niente e rischiavano di dire di diventare rapporti tossici quindi non ti servono via piano 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 ripeto questo non toglie nulla continuo a voler bene dentro di me le persone che non sono più nella mia vita ma non mi fa più nessun effetto sto meravigliosamente bene così sceglierei altre relazioni o un uomo addirittura un compagno per condividere con lui la mia completezza e la mia serenità la mia felicità non lo sceglierei mai per bisogno momentaneamente non sento il bisogno perché sono arrivata ad un punto ma un punto di completezza con me stessa mi sento completa non mi sento come se mi mancasse qualcosa quando questo qualcosa dovrà arrivare allora arriverà quindi sono in uno stato di accettazione di tutto ciò che è quindi questo questa parentesi ho voluto aprirla perché lungo mio cammino ho incontrato veramente molto spesso mi sono non è che ho incontrato mi sono trovata in queste situazioni ho sperimentato sulla mia pelle e quindi parlo veramente per esperienza e non parlo per libri un altro passo verso l'amore di sé dopo il dire il no elegante il no di qualità imparare a chiedere in maniera positiva usando le affermazioni in maniera positiva e non negativa e qui toccherò l'importanza della vibrazione delle parole come ho già detto nei video su nei video precedenti su youtube le parole contengono una grande vibrazione e puoi fare differenza facciamo questo esempio arrivi a casa sei stanca dal lavoro e hai l'aspettativa che il tuo compagno il tuo figlio o chiunque sia in casa sappia che tu sei stanca e che vorresti trovare la casa bella pulita bella che ti riceve nel riposarti nel rilassarti e magari arrivi a casa e ciò che trovi è tutta un'altra cosa quindi avendo queste aspettative arriva l'irritazione quindi chiedi oppure invece di chiedere una specie di rimprovero ok su un tono che risuona col tuo stato d'animo ma io arrivo sempre a casa non questa casa e tutti i giocatoli per terra a me non piace questa cosa io non ce la faccio più io sono troppo stanca io non so più come fare con te io e io e quando si salta da da un da una dimensione all'altra e da una frequenza all'altra si sente la differenza imparare a chiedere in maniera positiva sarebbe così tesoro a me piacerebbe molto che quando arrivo a casa fosse almeno ogni tanto la casa in regola mi piacerebbe molto che quando arrivo a casa non perdo più tempo nell'accogliere i giocattoli del bimbo oppure mi piacerebbe molto se quando arrivo a casa potessi trovare la stanza pulita potresti fare questa cosa per me mi piacerebbe molto mi faresti cantare il cuore di gioia se tu potessi mai fare questa cosa per me e già le parole hanno le hai le hai adolcite le hai caricate d'amore la persona verso la quale sono indirizzate queste parole agirà in maniera meravigliosa provalo provalo col tuo figlio provalo col collega di lavoro che magari è disordinato oppure provalo col tuo datore di lavoro in base alle circostanze per esempio a me non piace che lei mi parli sempre così io voglio rispetto io li io la io 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 ego quando però la richiesta viene fatta in maniera diversa puoi riuscire a disarmare l'altro senta direttore a me piacerebbe molto se lei potesse parlarmi con un tono diverso se le potesse comunicare con me in maniera più leggera le sarei veramente grata se lei potesse mai trasmettere ciò che sente in maniera più positiva se ha delle richieste da me me le può fare su un tono più leggero le sarei veramente grata se quindi è tutta un'altra cosa e tutto cambia ho messo in pratica queste cose danno un risultato pazzesco cioè la persona a cui lo chiedi in questa maniera ti viene incontro provalo per poter dire quindi imparare a chiedere in maniera positiva e non usando le affermazioni col non non mi piace non voglio non mi va che no esci dal no ed entri nella dimensione della 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 frequenza più calda più leggera più dolce e avrai risultati istantanei quindi riesci veramente a a fare un salto di qualità della parola ed è fondamentale questa cosa un altro passo verso l'amore di sé e imparare a sviluppare il muscolo spirituale per me il muscolo spirituale è posizionato nella zona del cuore perché tutte le volte che mi perdo in altre cose subito dopo mi ricentro qui nel cuore e osservo avere la capacità di osservare le emozioni e farò un esempio perché queste sono le domande interiori che le fai le fai a te stesso perché mi sento così quando questa persona mi parla con questo tono perché quel gesto che ha fatto quel collega mi ha creato questo disagio perché questa parola che questa collega usa sempre mi crea irritazione perché spesso tutti questi disagi hanno un'origine interiore molto profondo di cui non siamo a conoscenza perché è anche sono ancora nel subconscio quindi non lo sappiamo e le persone sono i nostri specchi e spesso puntano proprio lì nella ferita tua che va guarita quindi loro inconsapevolmente sono dei grandissimi maestri e questo l'ho sentito sulla mia pelle quindi osservare sviluppare questo muscolo spirituale dell'osservazione interiore perché questa cosa mi crea disagio perché è possibile che tu puoi scoprire piano piano che ci sono alcune ferite che stannano lì dall'infanzia paure per di non essere abbandonati tutti questi schemi hanno origini sia in infanzia oppure addirittura nelle vite precedenti quindi è molto importante andare lì e domandarti quando vedi che ti sale tal nervoso l'irritazione la rabbia la voglia di vendetta perché cosa ha toccato in me questa persona che mi ha fatto reagire così perché mi sento così cioè sviluppa sviluppa vai 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 dentro e fatti queste domande e piano 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 ti si aprirà questo centro energetico e potrai osservare sempre di più perché crei spazio e quindi entrerai in contatto con la tua anima inizierai a sviluppare l'intuito quindi non andrai più su ciò che pensi ma andrai su ciò che senti l'intuito è un sentire l'intuito non è mente l'intuito è un flash inizialmente non sapevo fare la differenza fra mente intuito ora piano piano sono arrivata al punto che ciò che sento è legge è inutile andare intorno alla domanda allora cosa sento se mi sento di fare questa cosa il corpo mi risponde sì o no qua dentro sento quindi inizi a sviluppare questo muscolo spirituale questo muscolo dell'intuito quindi questo è un grande atto d'amore verso se stessi è meraviglioso andare dentro se stessi fare pace con se stessi per poter fare pace col mondo quindi imparare a mettere queste barriere piccole barriere farò un video a parte sul barriere nelle relazioni intime tra uomo e donna e lì c'è da parlare un po quindi questi sono i passi fondamentali che io ho messo in pratica per iniziare ad amare me stessa quando prendi tempo per te stesso quando impari a dire no di qualità quando impari a sviluppare il muscolo spirituale quando impari a chiedere in maniera positiva e poi ne manca uno sono cinque imparare a dedicare tempo solo ed esclusivamente a meditare a meditare spesso le persone non sanno che cos'è la meditazione ma la meditazione ti riporta a casa e lì dentro come ho già detto la tua vera casa l'anima l'anima è casa tua rifugiati lì quando è così noioso intorno a te tutti corrono e fai un passo indietro respira e portati nella meditazione la meditazione altro non è che la respirazione consapevole sono vari infiniti modi di meditare ma basta stare lì con te stesso e respirare metterti una musica rilassante hai dedicato tempo alla meditazione hai dedicato tempo a te stesso è un atto d'amore pazzesco verso te stesso ed è meraviglioso quando lo fai ti sentirai in pace e ti sentirai meritevole perché meriti tutto ciò c'è divinità dentro di te sei divino ritorna a ricordarti questo che bello il film il re leone esistono messaggi subliminali ovunque il re leone inizia con remember who you are ricordati chi sei ricordati chi sei e nei film ultimamente troviamo una marea di messaggi subliminali perché l'universo inizia già a darti segnali di ricordare di entrare dentro te stesso e di spostare l'attenzione da fuori a dentro di te ama te stesso per poter emanare nell'universo una vibrazione d'amore inizierai ad attrarre a te un sacco un sacco di persone che ti amerano per ciò che sei perché quando impari a dire il no di qualità e dall'altra parte vieni amato per questa cosa hai buttato giù una barriera pazzesca non avere paura di esprimere chi sei di esprimere ciò che senti in quel momento anche se dall'altra parte viene catalogato come una risposta egoistica ok si autentico ama te stesso che possa questo video esserti d'aiuto e aprire questa questa porta è una porta che si apre solo da dentro è un paradosso qui perché questa porta una volta aperta dentro di te quando l'hai aperta sei entrato dentro non sei uscito fuori sei entrato dentro the only way out is the way in l'unica uscita è dentro di te è qui che sta tutto entra in contatto con te stesso impara ad amare te stesso e conoscerai un nuovo mondo grazie per essere qui ci vediamo nel prossimo video